Qualche commento? Ci siamo? Ok. Io sto benissimo, sto molto molto bene, devo dire. Tutto sta procedendo secondo i piani. Allora, prima di iniziare ragazzi, siccome stasera parliamo di sogni, parliamo di una cosa bellissima e molto importante. So che molti di voi siete qui perché avete voglia di realizzare qualcosa di grande. Perfetto. Come ho detto in un mio post, la piattaforma che aiuterà la persona che vuole adottare un nuovo stile di vita al fine di migliorare appunto la sua vita, da un punto di vista economico, da un punto di vista delle relazioni, a livello emotivo, eccetera, eccetera, la piattaforma è quasi pronta. Siamo all'80%, non possiamo dare una data, comunque ci siamo quasi, ok? Sta procedendo veramente bene, siamo molto contenti e siamo sicuri che darà una grande mano a tutti voi che volete, diciamo ufficialmente, dare una svolta alla vostra vita e avere in mano qualcosa di concreto, qualcosa da poter utilizzare quotidianamente per vivere una vita da sogno. Bene, l'argomento di questa sera è per me un argomento importantissimo. È uno dei pilastri fondamentali. Ragazzi, il sogno. Il sogno, sognare. Stasera io spero con tutto il cuore di darvi delle informazioni che a me hanno cambiato la vita, che tuttora me la stanno migliorando. Spero di darvele nel miglior modo, tuttavia non vi preoccupate perché tanto di questo argomento io ne parlerò per sempre. Su qualsiasi canale e in qualsiasi modo, con dei video, con dei video brevi, video lunghi, dirette, perché comunque ritengo che questo argomento sia uno delle cose che non che salverà l'umanità, perché salvare è un po' catastrofico, ma che sicuramente andrà a migliorare la nostra società se più persone iniziano a capire cos'è un sogno e a sognare. Sognare e realizzare, ragazzi, sia chiaro ovviamente. Voglio partire da una scena di un film che sicuramente molti voi hanno visto, che è La storia è infinita. La storia è infinita! Che è quella della nostra vita. Se non avete visto il film, andatevelo a vedere. È un film molto datato. C'è una scena dove praticamente c'è un dialogo fra, tra virgolette, il protagonista è fra virgolette il cattivo, dove il cattivo dice il tuo mondo sta finendo perché il tuo mondo è creato dalla fantasia umana e dalle sue speranze, ma siccome l'umanità non sogna più, non sta più sperando, il tuo mondo sta per scomparire. Questo è un po' il dialogo della scena. Quindi questo regno chiamato fantasia è scaturito dai sogni e dai desideri della gente. Ma siccome la gente non sogna più, questo mondo sta per scomparire. Non so se vi può richiamare qualcosa, non so se vi può far ricordare qualcosa. A me fa richiamare tanto l'attenzione su tante cose che io vedo in giro personalmente. L'altro aspetto interessante è che lui, il cattivo, dice io sto facendo in modo che questa cosa avvenga, ovvero che questa distruzione avvenga. e il protagonista gli chiede perché fai questo? Lui dice, semplice, perché è più facile controllare chi non crede in niente. Questo ragazzi ci deve far capire un po' tutta la nostra società come è combinata. Generalmente siamo educati a fai quello che io ti dico di fare. Fai quello che devi, fai quello che io ti dico di fare. Ma io vorrei... Cosa? No, ma il mio sogno... Non ho capito? Ok. Quindi sostanzialmente la nostra società non è basata sulla creazione consapevole, ma è basata sulla creazione inconsapevole, se vogliamo dire così. Nel senso che tutti noi sogniamo tutti i giorni, tutti i giorni noi creiamo. Il problema è che quando questa cosa è inconsapevole c'è la sofferenza, perché non creiamo quello che vogliamo, essenzialmente. io vi posso dire dalla mia che negli ultimi anni ho realizzato tutto quello che volevo. Tutto. Dalla macchina, alla casa, alle relazioni. Tutto. 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 Eseia, ma tu sei milionario? No. Anche qua imparerete a capire che c'è un percorso e mi sto godendo il percorso. Ma tu hai molto di più di quello che vi prima? Sì, certo. Negli ultimi dieci anni ho realizzato cose che sicuramente dieci anni fa erano impossibili per la mia situazione attuale. Questo è stato grazie al fatto che ho capito come sognare e come realizzare i sogni. Più che altro avere il coraggio di farlo. Quindi, quando mi farete questa domanda fra qualche tempo se sei milionario vi dirò di sì, certo, perché è il mio obiettivo. Non un sogno, un obiettivo. Perché il denaro è un obiettivo. Con i soldi faccio delle cose per le quali realizzerò dei sogni, certo, ovvio. Bene. Mio padre, che saluto, non so se mi sta guardando, dice io non so se Isaiah è una persona intelligente. Questo ragazzi anche vi deve far capire molto del fatto che nella nostra società non serve essere altamente intelligenti. Va benissimo, è perfetto. È una qualità ed è un valore. Più di ogni altra cosa servono, serve avere il coraggio di dire lo vedo, mi piace, mi emoziona, io posso realizzarlo. Questa cosa non è una qualifica, ragazzi. Questa è ho il cuore aperto. Mi ricordate qual è il film in questione? La storia infinita. la storia infinita. Quindi mio papà ha sempre detto, io non, cioè, in realtà mi ha detto una volta, mi ha colpito, la sua frase. Io non so se dire essere una persona intelligente, ma un sognatore come lui io non l'ho mai conosciuto. Cercate di capire questa cosa, ragazzi, perché io, con tutto il cuore ve lo dico, non sono qui per fare solamente l'insegnante. Il mio desiderio è aiutare, condividere più che altro. Io condivido la mia storia e sono così felice di vedere una persona che inizia a realizzare quello che vuole grazie a quello che io gli ho condiviso perché su di me ha funzionato ed è bellissimo vedere la gioia delle persone che cominciano a realizzare quello in cui credi anche tu e che loro migliorano la loro vita grazie ad informazioni che tu stai sperimentando. Questa è una cosa meravigliosa e io è per questo che condivido, che faccio le mie dirette, non per altro. È legato alla gioia di insieme fare qualcosa. ovviamente ragazzi il percorso è individuale. Io non posso oggi essere qua a dirvi come realizzare un sogno se io non ne ho realizzati. Sarebbe follia. Ok? Quindi ci va una sorta di laurea in questo, no? Io ho la laurea sicuramente sono diplomato il diploma me l'ha dato la vita in base a quello che ho ottenuto. Quanto è importante avere un sogno? È importante come respirare avere un sogno è importante come bere acqua avere un sogno è importante come vivere avere un sogno fa parte della vita. Questo per me è un pilastro fondamentale della mia giornata. Cosa fai durante la giornata? Sogno un po' sono grato mi godo quello che ho gli aiuto le persone io questo faccio durante la giornata poi ho le mie cosettine private ma quello è un altro discorso. Ma comunque è sempre tutto legato a questo che faccio alle cose che vi ho elencato. Sognare è un'attività ragazzi attenzione sognare pulire immaginare e poi realizzare ovviamente per me è un'attività proprio cioè che lavoro fai tu? Di cosa ti occupi? Io sono un sognatore ma non sto scherzando potrebbe essere una risposta sì certo ma perché è tutto legato alla creazione quando una persona ha uno stipendio quando una persona ha un'automobile quando una persona ha una casa l'ha creato attraverso i suoi pensieri attraverso le sue emozioni sostanzialmente ha desiderato quella cosa perfetto ragazzi quella persona ha sognato si dice sognare uguale creare sognare uguale creare ma è possibile poter creare tutto ciò che si vuole ragazzi la risposta è sì la risposta è sì qual è il problema io durante la giornata ho sempre due possibilità o mi concentro su quello che voglio i miei desideri i miei sogni o mi concentro su come avere soldi per realizzare quello che voglio il come va bene ma deve essere una fase sola nella vita non può essere tutto il giorno passo la giornata capire come poter fare per avere qui abbiamo un altro problema generalmente pensiamo che se noi abbiamo siamo felici io vi posso dire che questa cosa è sbagliata quello che vi posso dire per la mia esperienza è se ho la persona generalmente ragiona se ho allora sono ci siete? e con tutto intendo tutto sì se ho allora posso essere così ragiona la persona se ho la macchina allora sono felice qua già vi sto dando un po' di istruzioni saluti dal Perù perfetto in realtà è siccome io sono seguitemi siccome io sono felice allora desidero quella cosa se io agisco in questo modo io realizzo tutto quello che voglio e qui ragazzi comincia a essere ci sono i problemi cioè qui cominciano a scricchiolare le fondamenta delle persone ma come noi è impossibile io se ho i soldi sarò felice va bene prova a diventare milionario e poi dimmi se da milionario sarai completamente felice io ti dico per mia esperienza ho avuto dei momenti nonostante avevo guadagnavo 10-15 mila euro al mese avevo la mia casa tutto ci sono stati dei momenti in cui non ero così felice quindi ho capito che non sono le cose che abbiamo che ci rendono felici quindi non serve realizzare i propri sogni non è il discorso che non serve ragazzi realizzare i sogni è una cosa naturale per una persona che comincia a sentirsi bene facciamo il processo di come dovrebbe avvenire stasera sto parlando a ruota libera ragazzi voi potete poi fare domande o farmi domande in privato facciamo il processo di come dovrebbe essere io ho una situazione economica disastrosa non ho quello che voglio non ho le relazioni che voglio non ho la macchina che voglio non ho la casa che voglio ci siete? non ho il tempo che voglio eccetera eccetera bene a questo punto scatta si subisce la situazione c'è un malessere benissimo perfetto ragazzi che problema c'è? che problema c'è? noi possiamo realizzare quello che vogliamo però bisogna saperlo fare il segreto per realizzare un sogno qualsiasi cosa non è a tutti i costi fare qualcosa a livello commerciale per avere quella cosa perché generalmente le persone falliscono in questo il segreto è capire che il sogno è un'emozione positiva se avrò se avrò quell'auto nuova se avrò quella casa nuova io sarò felice fantastico il segreto è che adesso sono felice su quella frequenza perché? perché vi ricordo sempre che tutto è vibrazione tutto è frequenza tutto è energia tutto si crea istante dopo istante quindi se io dico voglio quella casa voglio quella macchina voglio più soldi adesso dopo parleremo un attimo anche dei soldi in riferimento al sogno perché in questo momento io mi sento male ci siete? io in questo momento sto vibrando male è impossibile che realizzo il sogno perché? perché il sogno è una frequenza positiva io vibro frequenza negativa o meglio frequenza più bassa le due frequenze non riescono a collaborare non riescono a unirsi quindi sostanzialmente io devo essere bravo ad anticipare i miei sogni sono io che comando la mia vita sono io che comando sui miei sogni non sono i sogni che comandano su di me non è l'auto che comanda su di me non è che si vede un'auto in televisione minchia quanto vorrei averla però purtroppo non posso in questo modo io sto affermando che la realtà comanda su di me invece dovrebbe essere vedo un'auto che mi piace che bella pensa quando sarò lì dentro provo già un senso di gratitudine provo già un senso di eccitazione ma pensa quando sarò che la guido pensa come sarà fantastico allora in quel momento sono io che mi sto mettendo in frequenza sull'automobile so che adesso in questo momento c'è qualcuno che sta pensando ma io lo so lo comprendo perché perché molti di voi si sono talmente convinti che i soldi servono un cazzo ma perché avere una casa bella dopo tutto io ho questa qua dopo tutto mi piace ma perché avere qualcosa di più ok questo può succedere quando non crediamo nel nostro potenziale ed è assolutamente rispettabile tuttavia io voglio che qua dentro stasera tutti noi siamo d'accordo che non c'è un limite a quello che possiamo realizzare io posso avere tutto posso avere uno yacht posso avere una villa da 400 metri quadri posso avere una Lamborghini posso viaggiare in tutto il mondo posso avere il cibo migliore cucinato nel modo migliore in casa mia tutti i giorni posso vestirmi nel modo più bello posso svegliarmi quando mi voglio quando mi voglio posso svegliarmi quando voglio si chiara assolutamente certo ok io desidero che nella nostra che qua dentro stasera ci sia in noi questa possibilità di realizzare quello che vogliamo e noi sappiamo che è possibile adesso vediamo come ma prima cosa noi sappiamo che è possibile cominciamo già a metterci nella risonanza positiva nella risonanza di quello che vogliamo della vita prima sono andato a vedere una casa da una milione di donne e già la sua ventina e la che respira ok perfetto io credo che tutti meritiamo quando mi voglio ha senso se ci pensi si può darsi può darsi che ha un senso certo considerate questo ragazzi questa è una piccola parentesi che voglio fare noi siamo stati creati da un'emozione di amore se qualcuno di voi non ci crede non è un problema per me non è un problema l'importante è che io ci credo io sono convinto che siamo nati per un atto di amore creati per un atto di amore non per un caso ragazzi basta guardare la natura non è possibile che se io osservo la natura dico è un puro fottuto caso quello che vedo ma stiamo scherzando nella natura ci sono delle leggi dei processi talmente perfetti che com'è possibile che sia il frutto del caso ragazzi è impossibile com'è impossibile che noi siamo frutto del caso è impossibile siamo stati creati per un motivo precisissimo voi direte ma allora perché non ci è stata data subito questa intelligenza io vi faccio un'altra domanda o magari vi dico la mia io penso che sia così bello qual è il senso della vita cerchiamo di capire un attimo qual è il senso della vita vi faccio due domande immagina preferiresti anzi la domanda è una con due opzioni preferiresti nascere super ricco in una famiglia la famiglia più ricca del mondo hai il tutto preferisci quello e quindi diciamo non avere stimoli perché è già tutto o nascere nella povertà per goderti tutte le tue vittorie una dopo l'altra avete mai riflettuto un attimo su questa cosa qua alla perfezione di quello che stiamo vivendo e se fosse così e se il disegno fosse che noi siamo stati creati con un potenziale illimitato noi possiamo realizzare tutto quello che vogliamo ma non lo sappiamo questa inconsapevolezza crea sofferenza e noi abbiamo la possibilità di passare dalla sofferenza al piacere io penso che il piacere esiste solamente nel momento in cui c'è la sofferenza capite la sofferenza bisogna vedere poi a quale livello no? ma è ovvio che se io sento un piccolo un piccolo fastidio quanto è bello puoi poterlo risolvere lo capite questa perfezione e qui entriamo un attimo anche nel discorso dell'accettazione della nostra realtà noi potenzialmente possiamo creare tutto ciò che vogliamo lo facciamo già tutte le persone tutti voi qui dentro per tutta la vita avete creato la vostra realtà un solo problema c'è probabilmente che non lo sapevate il vostro reddito le vostre relazioni è tutto creato da voi ma ti devi impegnare tanto adesso ne parliamo sul come quindi se io ho creato questo allora posso creare anche quello sì bisogna saperlo fare in realtà sono due le cose di cui voglio parlarvi la prima cosa è quali sogni seconda cosa come li posso realizzare adesso vi parlo di queste due cose qua forse non poveri nelle tasche ma poveri nella mente la vita è bella e la luce e fare uno switch del genere è stupendo certo certamente ragazzi è come vincere una partita la tua la partita è la tua vita quando vinci una partita sei contento io penso che sia questo la bellezza della vita poter fare una una scesa un percorso di vittorie però ragazzi dobbiamo accettarlo cioè possiamo accettarlo io l'ho accettato e mi sto divertendo un sacco e se le condizioni ti dicono che il sogno è difficile ok adesso vi dico questa cosa importante va bene ok allora prima cosa prima del come io vi darò alcune indicazioni su come io sto realizzando quello che voglio voglio condividere con voi quali sogni questo è molto importante ragazzi voi quali sogni avete? quali sono i vostri sogni? io posso dire quali sono i miei sogni? io sono una persona semplice non attualmente non vado a incasinarmi troppo perché so cosa vuol dire stare senza le cose primarie ok quindi i sogni di base devono essere i sogni di base all'inizio io non penso che qua dentro ci siano milionari quello che noi vogliamo sono le basi ragazzi cos'è di cui noi abbiamo davvero bisogno? io parlo per me una casa confortevole una casa che mi piaccia prima è il luogo in cui vivo cibo io voglio mangiare bene poi siccome tutti i giorni mi vesto voglio un abbigliamento che mi piaccia siccome mi sposto voglio una macchina che mi piaccia ho un sogno 5 livello di leadership non è un sogno Andrea il livello di leadership il livello di leadership a livello di business è un obiettivo non è un sogno non te ne fai niente di quella roba se non guadagni i soldi abbiamo tanti leader nel nostro business che non guadagnano quindi non è quello è altro io vi sto parlando ragazzi di cose reali ok il mio sogno è prendere il master in quell'azienda non è un sogno è un obiettivo il sogno sono le esigenze del nostro corpo della nostra mente del nostro cuore è il soddisfare queste cose che tipo di shampoo usi? che tipo di bagnoschiuma usi? che attrezzi hai in cucina? che cibo mangi? come ti vesti? qual è la tua casa? ci sono alberi fuori? c'è la natura? ragazzi questi sono i sogni di base questi sono i sogni di base i sogni di base sono la mia vita quotidiana nel migliore dei modi questi sono i sogni di base già avete capito che quindi i sogni non sono legati a cose lavorative sogno di raggiungere la qualifica così no lascia stare questo è il come ma di come ce ne sono tanti io il consiglio che vi do è questo se per esempio tu non hai la macchina è assurdo che tu in questo momento stai sognando la Lamborghini lo capisci? per quanto mi riguarda è un sogno che non ha senso io non ho la macchina quindi voglio una macchina che mi serve per fare quello ma che mi provoca anche un'emozione è un mix allora il sogno è per quanto mi riguarda è un mix fra la sua utilità e la sua bellezza la sua utilità e la sua bellezza la sua utilità e la sua bellezza ci sono molte persone che comprano fanno cose semplicemente magari per soddisfare una della serie ce l'ho anche io ce l'hanno tutti quindi ce l'ho anche io poi in realtà magari hai difficoltà a spostarti ad esempio no? io penso che ragazzi noi dobbiamo essere molto realisti con noi stessi e concreti e concreti qui tuttavia c'è di mezzo l'amore c'è di mezzo la gratitudine apprezzare le piccole cose siamo in una società dove continuamente veniamo bombardati da messaggi ed è bello è giusto tuttavia il rischio è quello di essere focalizzati su tante alla fine che sono cazzate e non sulle cose primarie io desidero che ognuno di voi da qui a breve realizzi i sogni che hanno la priorità per voi tutti voi avete una casa perfetto il vostro sogno è migliorarla oppure cambiarla sono due le cose quest'anno il sogno è questo se avete un'auto è migliorarla o cambiarla se fate dei viaggi è migliorarli o fare viaggi nuovi se avete delle relazioni che non vi piacciono è migliorare le relazioni o avere relazioni nuove noi viviamo di questo ragazzi relazioni e le cose della nostra quotidianità tutti noi in questo momento stiamo condividendo una casa un mezzo di trasporto un paesaggio il cibo lo capite ragazzi in questo momento nella nostra società siamo arrivati al punto che le persone stanno avendo difficoltà ad avere queste cose di base è da qui che io sono partito è da qui che io parto i sogni di base la priorità vivere in una casa mia che mi piace crescita aggiormente economica ok manca al momento solo uno si ascolta con massima attenzione non sono i soldi ok perfetto la base la priorità d'altronde quando voi poi vedete i ricchi cos'hanno i ricchi? i ricchi hanno esattamente quello che avete voi ma ha migliorato hanno una villa hanno relazioni meravigliose hanno auto fantastiche e viaggiano in tutto il mondo e hanno più tempo libero hanno la stessa vita vostra ma migliorata vi voglio fare un esempio estremo nell'opposto allora voi avete la vostra vita avete il vostro stipendio siete più o meno soddisfatti il vostro sogno quest'anno è comprarvi quelle scarpe da 1200 euro esempio ragazzi va tutto bene va tutto bene la domanda è è utile? è bello? è bello? sì è utile? forse no cioè io con 350 euro potrei fare delle cose un po' più utili esempio se invece io sono convinto che se mi compro quelle scarpe sono una persona accettata dalla società ragazzi qui siamo completamente su un altro terreno quella persona sarà sempre insoddisfatta nella vita i sogni ragazzi sono troppo importanti sono fondamentali è la cosa che ci tiene vivi che ci fa eccitare e ci dà anche lo scopo anche della nostra vita perché oggi mi alzo? perché amo quello che ho me lo godo ma evidentemente sto sognando qualcosa di migliore ragazzi questo diventa uno stile di vita cioè non è che il sogno è una volta in tutta la vita ho comprato la mia casa boh ho realizzato il sogno finito sognare è uno stile di vita sognare è uno stile di vita è un modo di essere il mio sogno è una casa non in centro abitato nel verde ok? io ho stile di vita che immagino il mio sogno il mio chiedo fisso ok ragazzi? io negli ultimi anni ho realizzato con una semplicità disarmante tutto quello che volevo voglio anche far presente che io ho diciamo che uso utilizzo una piattaforma di business che tutti voi conoscerete chi non ancora non la conosce ma avrete accesso a questa piattaforma che mi permette di guadagnare tanti soldi ma attenzione la piattaforma non fa il lavoro per te se tu sei in grado di sognare di realizzare nella tua mente nel tuo cuore di vivere i tuoi sogni allora la piattaforma di business funzionerà per te altrimenti no perché sognare è un'esperienza non è alla fine mi sacrifico soffro per avere quella cosa ragazzi questo non è sognare sognare è un'esperienza bella a adesso nel qui e ora è un'esperienza che mi dà eccitazione a adesso non quando avrò quella cosa adesso quando ce l'ho dirò perfetto è la materializzazione di quello che io ho sempre sognato desiderato e vissuto con amore e gratitudine dentro di me bisogna essere molto precisi nei sogni qual è l'atteggiamento giusto per sognare perfetto grazie Manuel l'atteggiamento giusto per sognare molto semplice vi faccio i due esempi l'esempio negativo e l'esempio positivo se vogliamo dire l'esempio negativo è sì mi piacerebbe ma non so se ce la faccio sì ogni tanto ci penso ma non lo so io non realizzo mai quello che voglio mi capitano sempre sfighe no ti capitano esperienze opportunità per imparare a vibrare positivamente il sogno è una conseguenza qual è l'atteggiamento giusto quello che faccio io è questo innanzitutto ragazzi io parto dalle priorità ve l'ho già detto sogni prioritari non è che tutto il giorno pensa a miliardi di cose perché ragazzi se io penso a miliardi di cose sto mandando in tilt l'universo perché l'universo è come Aladino come la lampada di Aladino l'universo dice ok perfetto esprime un desiderio voglio una Mercedes bene l'universo comincia a mettersi in moto ti manda tre o quattro opzioni tu dici vorrei quella lì mi piace l'universo dice benissimo mi metto all'opera per aiutarti poi dico no ma però aspetta io non so se ce la farò ad averla perché non ho i soldi porca puttana l'universo lì va in tilt dice fermi tutti fermi 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 no no ferma gli stavamo per mandare sconti gli stavamo per mandare opportunità di business gli stavamo per mandare i soldi per comparsi la Mercedes ma lui ha detto che non sa se potrà realizzarla quindi tutti fermi noi io universo io Dio chiamatelo come lo volete rispetto il suo libero arbitrio e blocco il processo io comincio a dire forse sarebbe meglio però forse un Alfa Romeo l'universo dice ragazzi ha chiesto un Alfa Romeo mi metto in moto per inviarti l'Alfa Romeo la persona comincia a dire però non lo so non è che mi emoziona così tanto infatti l'universo dice amico mio se vuoi realizzare qualcosa mi devi dare tanta emozione ma tanta tanta se non mi dai emozione io la cosa non te la posso portare perché tu sei qui per emozionarti non per la macchina sei nato per emozionarti adesso forse probabilmente o forse forse per me sarebbe meglio l'Alfa Romeo no però aspetta un attimo alla fine a me la macchina che cazzo mi serve cioè a me alla fine la macchina mi serve solo per spostarmi ragazzi vi sto facendo vedere come ragiona una persona che non crede nei propri sogni alla fine a me la macchina mi sarebbe spostarmi quindi forse andrebbe bene anche un appunto abbiamo un problema abbiamo un problema che l'universo ci porta le cose solo per via emozionale non per un ragionamento razionale perché noi siamo esseri emozionali siamo dei campi di energia no se l'energia non vibra la cosa non arriva quindi se io dico forse sarebbe meglio l'appunto se sta appunto benedetta non arriva perché? perché non c'è un'emozione legata poi mi arrivano i messaggi sul mio canale youtube e se io non riesco a realizzare niente semplice non avevi un sogno che ti emozionava ragazzi ho solo fatto un esempio di automobili l'Alfa Romeo fa auto bellissime la Mercedes anche anche cioè è solo per fare un esempio e anche chi ha realizzato l'appunto io gli faccio i complimenti ma l'ha realizzata sulla base di un'emozione non sulla base di un ragionamento razionale il sogno la creazione avviene per emozione non per ragionamento razionale se io agisco per ragionamento razionale nella mia vita io non realizzo niente nel senso che mantengo quello che già ho l'universo non segue le nostre logiche segue le nostre emozioni quindi l'atteggiamento io per esempio faccio così allora so nella mia mente che posso realizzare tutto quello che voglio ho visto delle cose pazzesche bellissime sono sicuro che le avrò ma faccio i conti con il mio essere con i miei limiti e quindi dico fermo facciamoci un percorso non ho la macchina vi dico quello che ho fatto io non ho la macchina voglio una macchina ma non voglio una macchina qualunque non mi interessa la macchina qualunque perché io so che se penso a una macchina a livello razionale io quella roba non la realizzerò mai chissà perché i soldi non mi arrivano allora dico non ho la macchina vorrei una macchina cosa che mi piace allora ma il mio sogno in questo momento dal mio punto di vista sarebbe una macchina col cambio automatico non l'ho mai avuta la macchina né col cambio automatico quindi già il cambio automatico sarebbe un sogno per me mettiamolo perché quella cosa mi emoziona sarebbe bello avere una mercedes pensa che bello una mercedes ci sono stato dentro una mercedes cazzo è una macchina troppo bella mi piacerebbe avere una mercedes magari non nuova perché non so se riesco a realizzarla nel breve periodo perché io la voglio la voglio subito non so se riesco a realizzarla quindi magari una mercedes usata sto scendendo ad un compromesso con me stesso funziona certo che funziona con me ha funzionato volevo la mercedes cambio automatico e mi è arrivata voglio provare a cambiare stile di vita grazie a te grazie mille perfetto simona ne parleremo presto mi hanno rigato tutta la macchina fuori dell'ospedale durante la nascita di mio figlio meglio lasciare la rabbia da parte e sognare che ne avrò una migliore ragazzi allora le emozioni negative come rancore rabbia queste cose qua bloccano il processo di creazione non solo lo bloccano ma vanno a distruggere che può andar bene io non ve lo consiglio io ci sono già passato quindi quindi spinti da follia io quello che vi consiglio è questo tutto ciò che volete realizzare nella vostra vita la prossima auto la prossima casa il prossimo cibo il prossimo vestito la prossima relazione tutto quello che volete unite la follia alla ragione usate tutte e due se usate solo la ragione non lo realizzerete mai se usate solo la follia rischiate di non crederci abbastanza quindi fate combaciare è come se dentro di voi deve scattare un punto di accordo fra la vostra parte razionale e la vostra parte emotiva fate questa scelta con totale amore non abbiamo fretta ragazzi non c'è fretta non c'è nessuno ci corre dietro non ci corre dietro nessuno ma è importante scegliere qualcosa che davvero ci piaccia non facciamo le persone razionali ragazzi non serve a niente essere razionale si muore alla fine ma effettivamente una ton una bara di faggio no ma il faggio poi costa troppo poi i miei genitori poi i miei figli mi devono fare quella bara lì pensa che che peso che gli do ma no ma tanto intanto devo solo morire ma sì ma anche di cartone va bene ecco ci siete? quando non sogniamo è tutto un ragionamento al risparmio e la maggior parte delle persone agiscono in questo modo qua è un ragionamento al risparmio ma sapete che cos'è questa ragazzi? quando io penso alla bara di cartone la sto comunque creando in qualche modo sempre sono sempre io a crearla cosa succede? penso alla bara di cartone e dico ah mi sento bene perché so che posso far risparmiare i miei figli so che non peso tanto e so che alla fine è quindi sto sentendo un'emozione quasi di benessere a questa cosa e quindi la creo e quindi la creo la realizzo sarebbe davvero interessante poter fare questo ragionamento su cose che davvero ci piacciono quando le persone che incontro basta un gioco una goccia di negrità per essere e per arrivare a trovare la casa dei tuoi sogni come hai fatto? allora come ho fatto? allora vi dico come se volete come si crea la casa dei propri sogni come potete prenderla funziona così prima cosa dovete essere avere un'idea di che tipo di casa vorreste open space tutte stanze due piani partite dalle priorità cos'è che davvero mi serve in una casa? prima cosa quindi io ho detto prima cosa le mie priorità erano casa nel verde casa possibilmente nuova scusate da arredare perché me la volevo arredare io mi deve piacere all'interno cioè a vista mi deve piacere possibilmente indipendente ok? quindi parto dalle basi parto da ciò che davvero mi interessa cioè non me ne frega voglio il tetto rotondo non è una priorità in questo momento magari in futuro lo sarà adesso no a quel punto quando io chiaro bene gli elementi che mi servono sono quegli elementi che cazzo se ce l'ho io sarei la persona più felice del mondo per esempio altra cosa voglio il box auto col cancello automatico sono quelle cose che tu non hai mai avuto ma sai che ti renderebbero la vita più comoda ti renderebbero la vita migliore ragazzi questo è sognare sognare concretamente di cose che davvero ci servono a quel punto io vado a vedere annunci siccome so già quello che voglio dico no 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 è lei subito la riconosco la riconosco immediatamente e quando vado a vederla so già che la prendo si può sognare l'impossibile tu puoi realizzare tutto ciò che per te sarà possibile puoi sognare l'impossibile sì purché tu pensi che sia possibile realizzarlo vedi tu cosa fare vedi tu Mario perché non è possibile ragazzi che noi stiamo assoluti sul divano con uno stipendio da 1000 euro parlo per la gente a dire ma sì io posso realizzare quello che voglio e morirò così no ragazzi io voglio portarvi all'azione voglio che in un anno la vostra vita è davvero migliorata quindi vi dico sogniamo le cose possibili però meno per la nostra mente è ovvio poi che è tutto possibile ragazzi tutto è possibile tutto è possibile ma io davvero oggi ci credo a quella cosa davvero oggi credo al fatto di poter realizzare una villa da 7000 metri quadrati con il maggior domo e 8 piscine dentro oggi pomeriggio ci credo davvero se qualcuno di voi dice sì sei io io ci credo è tutto possibile perfetto io sarò felice fra 6 mesi di venire a casa tua in quella casa però se fra 6 mesi sei ancora lì che dici sì però la casa mia non è che mi piace tanto facciamo un passo alla volta godiamoci il viaggio l'atteggiamento bella domanda giusta domanda è un atteggiamento che io faccio come un senso di gratitudine cioè io riesco in automatico oggi a fare così voglio una casa migliore voglio un'auto migliore quindi è personale o può essere comune il sogno comune con chi le circostanze le persone di situazione arrivano solo dico voglio una casa migliore ragazzi anche qua usare molto il sentimento quello che vi dice il corpo ragazzi quello che vi comunica il corpo se il corpo vi comunica che dove siete c'è qualcosa che non vi piace vi deve scattare il sogno ok quindi quando sogno un'auto migliore fra l'altro a breve quando la situazione ripartirà mi comprerò la nuova mercedes quindi averti la prova di quello che sto dicendo quando voglio realizzare qualcosa provo già ma oggi mi viene in automatico ragazzi però considerate che ci ho messo tanto tempo per arrivare a questo punto provo come un senso di gratitudine al fatto che io so che avrò quella cosa ok e io sono sicuro che questo è quello che funziona più di tutto penso a quella cosa provo un senso di gratitudine un senso di eccitazione e dico grazie grazie per la mia nuova casa grazie 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 non vedo l'ora grazie bellissima ragazzi io faccio così cioè già ci credo arriva sta arrivando tutto con le donne lo stesso assolutamente funziona con tutto nel rapporto con le persone ragazzi nel rapporto con le persone anche lì io vibro su quello che voglio vivere non è possibile che voi abbiate un rapporto brutto con una persona e dite io non voglio più ste relazioni del cavolo non è un sogno non è un sogno questo il sogno è ringrazio la relazione attuale voglio desidero quel tipo di rapporto non vedo l'ora di averlo so che starò benissimo ad avere quel tipo di rapporto io lo voglio lo voglio lo desidero non vedo l'ora è come se quella cosa vi deve arrivare davvero sembra follia lo so ragazzi sembra follia ma è così che funziona io sono talmente convinto che quella cosa mi arriva ma perché? perché mi sento bene al pensarlo ragazzi è matematica se io mi sento bene a pensare a una cosa quella cosa mi arriva è matematico non si scappa da questo allenamento quotidiano a sognare ok nelle relazioni funziona così anche nelle cose voi considerate immaginate questa cosa un sogno è l'incontro fra noi è un'altra cosa fra noi è un oggetto noi un'automobile no una casa noi è una relazione no? c'è una frequenza noi vibriamo su quella frequenza quella cosa vibra su quella frequenza le due cose si stanno chiamando ma se c'è solo uno che chiama e io non rispondo non può esserci la realizzazione quando io comincio a chiamare a vibrare su quella frequenza comincio a entrare in risonanza con quello che voglio ecco che comincio a concretizzarsi e materializzarsi arriva il matrimonio fra le due cose possono essere due persone o io è un oggetto sognare è una delle cose più importanti e più belle della nostra esistenza è uno stile di vita io quando mi alzo se non ho un sogno non so perché sono su questo mondo e se sono su questo mondo solamente per andare a lavorare prima o poi preferisco morire ragazzi la gente muore perché non ha sogni la gente muore perché non crede nei propri sogni quindi tu Isaia mi stai dicendo che se io credo nei miei sogni continuamente non morirò più la risposta è sì qualcuno di voi dirà Isaia quello che stai dicendo è follia perché la gente muore tutti i giorni io ti dico amico mio mi vedi sono in carne e ossa sono vivo sono vivo solo il giorno in cui io morirò tu potrai dire che quello che diceva erano cazzate quindi attualmente non sono io a dover smentire questa cosa vale anche per la salute cioè desiderare di sentirsi meglio o quella arriva di conseguenza fa bene anche dire io sono in perfetta salute io sono un essere perfetto va benissimo tuttavia comunque la salute è la salute poi parliamo di corpo fisico è l'ultima cosa importante nonostante è un qualcosa di pazzesco quando si vive in un modo o nell'altro ma non è quello su cui noi vogliamo lavorare noi vogliamo lavorare sui sogni e sui sogni le relazioni e le emozioni il corpo poi risponde funziona anche con somme di denaro che si possono vincere come lotterie eccetera allora considera questo i soldi possono arrivare da qualsiasi fonte il tuo obiettivo è convincerti di credere che sia possibile realizzarlo se tu pensi alla lotteria tu sai già che le percentuali di vincere sono molto basse quindi stai dicendo al tuo subconscio è difficile che oro i soldi ma se tu accetti il fatto che i soldi possono arrivare da qualsiasi fonte non hai bisogno di pensare alla lotteria ma solo i soldi da dove arrivano? non è importante le vie del Signore sono infinite anche per un altro tipo di lavoro domanda perché vai a lavorare? se Vanessa tu per te il lavoro equivale a soldi io ti dico concentrati sui soldi e se esistesse un metodo per guadagnare senza lavorare tu che ne sai? io ce l'ho io ce l'ho per esempio io guadagno soldi mica lavorando se ti interessano i soldi si possono fare soldi anche senza lavorare se invece ti interessa lavorare perché è la tua passione la tua domanda non ha senso perché basterebbe dire io faccio quello che amo punto quando attiriamo rabbia e cattiveria perché viviamo noi su quella frequenza sì lì c'è quando attiriamo rabbia e cattiveria perché c'è una parte di noi che sta vibrando su quella frequenza l'unico modo per risolverla definitivamente è perdonare e ringraziare quella persona che ci ha fatto provare quella sensazione in quello modo ci liberiamo perché il contrario della rabbia e la cattiveria è l'amore il perdono e la compassione desideri e sogni sono la stessa cosa desideri e sogni sono la stessa cosa sì certo papà mio papà ha fatto la domanda sì sono la stessa cosa si assomigliano molto desidero quella cosa diciamo che il desiderio è come fosse un'emozione mentre il sogno è l'oggetto il desiderio è l'emozione desidero realizzare quel sogno possono stare insieme le due cose sono simili sì ma devi dire il senso di anticipazione esatto le cellule sono immortali assolutamente volere potere sempre quindi stai affermando che le persone sono potenzialmente immortali le persone sono potenzialmente immortali assolutamente noi potenzialmente siamo immortali io personalmente queste sono le persone che mi stanno vicino mi fanno notare come sembra che io stia ringiovanendo questa è una testimonianza diretta ok considerate che io fra due anni ho 48 anni fra due anni che cazzo sto dicendo fra due anni o 40 anni però diciamo che con l'andare degli anni mi danno sempre meno anni quindi assolutamente la morte fisica altro non è che la morte delle emozioni e dei sogni della persona ragazzi io la penso così io sono convinto può il sogno richiamare la nostra attenzione nella vita reale per migliorare cioè il sogno al risveglio non comprendo può il sogno richiamare la nostra attenzione no il risveglio è uno strumento che stai utilizzando per realizzare i tuoi sogni che sono appunto le cose che ti servono per vivere una vita quotidiana migliore il risveglio è uno strumento è un è quello che ti serve per e se io sogno un'altra un'altra casa e mio marito è convinto che non cambieremo mai casa non posso dire parolacce stavo dicendo sono dei tuoi scherzo sto scherzando questa è la battuta in realtà la realtà è questa allora Maddalena dice se io sono in una casa da mio marito è convinto che non cambieremo mai casa allora la casa la bella casa nasce da un'emozione sempre di gratitudine e di amore positiva ok quindi il mio consiglio Maddalena è quello di essere grata a questa persona quindi a tuo marito vivere con lui vivere con lui un'esperienza positiva di relazione se tu vivi un'esperienza positiva con lui io sono convinto che volete scegliere la stessa casa oppure se tu vivi un'emozione positiva sei grato a lui vivi nella gratitudine sei così contenta della tua casa nuova ma che magari tuo marito dice sai che c'è ti lascio e tu direi va bene il mio sogno è la casa in qualche modo si realizza o da sola o con lui l'importante è che tu vibri bene perché il sogno si realizza ed è matematico nessuno può distruggere il tuo sogno se non tu stessa che vibri rabbia rancore lui non ci crede quindi io provo rabbia con la rabbia tu la casa non la realizzi ti stai fregando da sola lui non ci crede che problema c'è grazie io invece ci credo e non vedo l'ora di entrare dentro quella casa succederà qualcosa nella tua vita o qualcosa a lui che gli farà cambiare idea qualcosa succederà perché l'universo si metterà in azione l'universo premia le tue emozioni è possibile che emozionandomi ottengo indirettamente qualcosa che sogno tipo ad esempio un'automobile e poi una volta ottenuta perde l'emozione si può succedere tu guadagni senza lavorare se o meglio non lavoro come le persone pensano che sia il lavoro io guadagno oggi guadagno senza fare nulla cioè io oggi ho ricevuto non so se 700 euro per esempio sono cifre più o meno giornaliere per me senza fare nulla cioè io facevo altro in casa mia oggi ho fatto una semina imparerete a capire come i soldi non sono frutto del lavoro che fate tutti i giorni ma sono il frutto di una semina dei vostri sogni e del valore che avete dato alle persone questo è un nuovo modo di guadagnare ed è quello che avrò il piacere di presentarvi a breve giusto Gian siamo in linea amico mio la paura può considerarsi l'opposto del desiderio no può considerarsi solamente un un freno l'opposto non direi l'opposto secondo me sono le emozioni come rabbia odio quello è l'opposto in realtà l'opposto del desiderio è l'apatia desiderio voglio quello l'apatia non me ne frega niente di niente la paura ci sta può stare all'inizio stai stai fermentando in cantina non so cosa vuol dire se hai paura che qualcuno rubi il tuo sogno nessuno in questo universo può permetterti di rubarti il sogno a meno che tu non glielo permetti quindi ragazzi non trovate scuse non trovate andate vivete e realizzate il vostro sogno punto io vinco vinco io non vincono le cose esterne io vinco sullo scetticismo ma ricordatevi che per realizzare un sogno bisogna essere in collaborazione con qualcuno con qualcosa da soli non si fa niente quando io penso alla mia auto nuova se non ho fede che si realizza non lotterò mai fede in cosa in chi io è come se sento una grande energia che collabora con me potete chiamarlo Dio potete chiamarlo Universo io sento quando voglio realizzare qualcosa che c'è un qualcosa che collabora insieme a me questa cosa è grandissima è meravigliosa e collabora insieme a me io ho fiducia e ho fede che Lui mi porti quello che voglio semplicemente perché lo ringrazio semplicemente perché vivo la gratitudine perché mi sento bene e lo rispetto e se mi capita qualcosa di negativo la prima cosa che dico è se mi hai mandato questo c'è un motivo io ti ringrazio lo capite il mio atteggiamento com'è? sempre sulla gratitudine ma è questo che porta cose migliori la vibrazione il sogno come guida è un intuito no Mario quello è un obiettivo il sogno è la tua casa la tua auto il tuo abbiamento il tuo cibo le tue relazioni i tuoi viaggi quello è il sogno quello che dici tu è un obiettivo per come la vedo io eh dovrei sentirmi in perfetta salute grato anche se non lo sono per poterlo ottenere sì esatto oppure dici Domenico io sono grato per questa cosa che sento per questa cosa che ho sono sicuro che tutto si risolverà perché io lo merito quindi la realizzazione del mio sogno in realtà è un'evoluzione di tutta la mia tutta la mia vita compresa ovviamente le relazioni interpersonali sì certo certamente quando ci mettiamo nella condizione di imparare a sognare le cose materiali con le relazioni anche la relazione è una cosa materiale se ci pensiamo quindi le relazioni gli oggetti materiali tutto è connesso tutto se voglio realizzare una casa è davvero importante che io viva anche belle relazioni perché? perché le relazioni mi fanno vibrare positivamente se vibro positivamente è molto probabile se non matematico che realizzo la mia nuova casa le relazioni per esempio sono forse la cosa più potente che ci fa star bene o male se io riesco a vivere relazioni di qualità i miei sogni si realizzano alla velocità della luce grande Gianna un nuovo modo di guadagnare tutta la vita stai con me come liberarsi dalla paura Isa la paura non esiste azione ragazzi la paura non esiste esiste il non fare qualcosa voglio qualcosa faccio qualcosa voglio qualcosa desidero qualcosa se non lo faccio sono bloccato dalla paura la paura in realtà non è una cosa reale è semplicemente un non faccio qualcosa come liberarsi dalla paura entrando in azione ah più vado avanti più sono buono sì sì esatto si chiama amore esatto papà l'universo cospira a tuo favore Dio ci ha creato a sua immagine come lui abbiamo le stesse qualità di creazione bravissimo Ivan sono la tua fede nel sogno purizzarlo condivido pienamente Dio ci vuole estremamente felici senza limiti Dio dice io vi ho creato ragazzi cercate di capire il livello mentale una sorta di logica no? se vogliamo essere più fiduciosi io vi ho creato vi ho creato per la bellezza per il godimento della vita ma se tu non ci credi io rispetto comunque la tua scelta perché ho creato anche quello che si chiama libero arbitrio fantastico perfetto stai dando un cambio di paradigma sei speciale la mia vita è una io vivo una vita magica vivo in un mondo tutto mio vivo una vita assurda da un certo punto di vista no? seppur nella massima semplicità il mio sogno è quello di vivere insieme ad altre persone questo cioè quello che sto facendo è semplicemente condividere tutto questo ciao genero qua ragazzi io con le parentere non vi sto più dietro però cominciano a arrivare parenti da tutte le parti non vi sto più dietro può un sogno nascere dal subconscio a vivere un deja vu non ti so rispondere perché non ho capito bene la domanda sogno una nuova casa sono grato all'universo per la casa che ha il servo per me non è compito mio sapere come l'universo farà sì che accada esatto Linda ricordati però ricordati di una cosa ragazzi l'universo vi manda delle occasioni delle opportunità voi volete la casa nuova cosa fate vi mettete in azione guardate su internet cominciate a sognare perché vi volete avvicinare al sogno cioè non è solamente voglio una casa nuova no voglio una casa nuova tutti i giorni la guardo su internet oggi ragazzi dico su internet perché siamo in questa situazione tolta questa situazione vado fisicamente a vedere la casa con i miei occhi ci siete voglio viverla voglio viverla a quel punto siccome la casa ha un costo l'universo vi manda l'opportunità per fare i soldi per avere quella casa o vi manda i soldi ma vi manda delle opportunità che voi dovete essere bravi a coglierle quindi ciao Linda vuoi venire ad ascoltare una presentazione di un business caso strano è arrivato adesso che io segnavo la mia casa capite come funziona l'universo l'universo con la scusa della casa vuole farvi entrare in un business per ottenere non solo la casa ma tante altre cose quindi quando cominciamo a sognare cominciamo a mettere in atto tutto un cambiamento globale nella nostra vita le relazioni la nostra salute la nostra attività lavorativa tutto viene stravolto piano piano ovviamente state tranquilli e comunque vale anche per gli obiettivi la frequenza giusta vero? sì assolutamente le relazioni quindi aiutano a realizzare i sogni? sì assolutamente se state con persone negative ringraziatele piuttosto vi allontanate non state in relazioni tossiche in relazioni tossiche i sogni non si realizzano i tempi di realizzazione sono brevi del sogno o sono se sono intensi? sì più l'emozione è forte prima il sogno si realizza cosa mi dici? delle resistenze che attivano comportamenti inconsapevoli che ti allontanano ciò che stai costruendo? fai la pace fai la pace fai la pace con te stessa fai pace crea pace l'obiettivo nostro ragazzi questo è quello che io sto facendo da anni e creare dentro di me la pace se c'è una parte di me che vuole una cosa l'altra parte non la vuole non faccio la guerra dico ok facciamo la pace cos'è che insieme possiamo realizzare? ci piace a tutti questa cosa qua andiamocela a prendere perché noi dentro di noi abbiamo una parte emotiva una parte razionale abbiamo più parti e questo è bellissimo perché siamo come dei computer che hanno più hardware vuol dire che abbiamo molta più potenza si dice che noi per esempio abbiamo una parte di cervello che è rettiliana rettiliana vuol dire totalmente razionale meno male che ce l'abbiamo perché ci permette di ragionare fare calcoli ci serve anche questo ovvio che se ragioniamo solo come dei rettiliani siamo fottuti la nostra società è basata su un pensiero rettiliano solo razionalità fottutamente finita ci vuole l'equilibrio la razionalità al servizio dell'emotività ovvero dell'anima allora sono le undici un'ora e mezza però c'è una cosa importante che volevo ancora dirvi una cosa importante che non mi ricordo più perché è un sogno a quali cosa occorre ma è davvero importante per realizzare quello che vogliamo sentirci sempre nel posto giusto al momento giusto perché in quel momento noi stiamo capendo che in realtà forse la vita da sogno altro non è che un'emozione non è un luogo non sono le cose attualmente già noi tutti in questo momento stiamo vivendo la nostra vita da sogno pensateci come faccio a farvelo capire con un esempio facilissimo semplice adesso vi prendono vi portano in una prigione di una stanza di due metri quadrati fredda senza riscaldamento e non mangiate e non bevete nemmeno per una settimana ci siete? siete con me? per un attimo? bene siete lì? in quell'umidità non c'è niente non c'è cibo non c'è acqua la stanza è piccola brutto adesso di colpo proiettatevi dove siete adesso avete una casa avete del cibo nel frigorifero avete la connessione in internet potete parlare con le persone che volete voi avete l'acqua calda c'è la corrente elettrica e c'è anche un letto comodo non pensate che questo è un sogno rispetto ad un'altra situazione quindi in realtà noi stiamo già vivendo una vita da sogno non è questo il discorso il discorso è riesco davvero ad apprezzare quello che ho adesso io ho avuto una svolta con i sogni quando ho imparato ad apprezzare quello che avevo adesso quando lo apprezzo in automatico la mia mente comincia a sognare lo fa in automatico perché ti senti talmente bene che quella frequenza comincia a connettersi con una villa con una bella macchina con un viaggio con tutto quindi è davvero importante sentirsi bene adesso nel qui ora è questa la rivoluzione siamo in una società dove ci fanno credere che più cose abbiamo più cose consumiamo più saremo felici puntualmente non lo siamo mai e diventa una droga diventa una droga diventa un volere avere 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 allora poi però se poi non ho faccio tre lavori per avere 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 alla fine siccome non sono un genio non posso avere così tanti soldi per avere e quindi vado in depressione questa è la vita delle persone io sono grato per quello che ho apprezzo quello che ho mi godo quello che ho è un miracolo quello che ho in questa frequenza io sono già ricco ho già realizzato il mio sogno vibro bene in automatico mi sto agganciando a tutte le esperienze possibili dell'universo io vi posso garantire ragazzi che avere una macchina bella confortevole una casa bella confortevole avere comprare il cibo che vuoi io vi posso garantire che è stupendo e non tornerei mai indietro mai ma vi posso anche garantire che non è solo legato a questo da quando sogni hai cambiato completamente il modo di parlare e relazionare sì probabile Manuel sì perché ti spiego quando tu vuoi realizzare i tuoi sogni la vita ti obbliga a migliorarti se vuoi mettere il culo su una bella Mercedes devi essere una persona di un certo tipo non sto dicendo un avvocato o un medico sto parlando di frequenza diciamo che l'universo ragiona un po' così se vuoi avere una bella casa la tua frequenza deve essere in linea con questa casa bella quindi l'universo ti stimola a migliorare la tua frequenza quindi le relazioni e tutto esempio sono persone famose che hanno fatto una brutta fine brutta fine io ragazzi vi dico una cosa meglio salire su un palco per dieci minuti e vivere l'emozione più piena della tua vita che passare una vita senza un sogno quindi anche lì è opinabile siamo già ricchi ma non lo sappiamo è esatto esatto io non sto dicendo ragazzi non vi sto invitando a non sognare tutt'altro ripeto avere cose belle è bello per me è bello è importante su questo ripeto non tornerei mai indietro ma l'unico modo per avere è essere l'unico modo non ce n'è un altro dopodiché sicuramente poi parleremo della piattaforma che io insieme a Giancarlo sto realizzando e che sarà a vostra disposizione sarà comunque solo un mezzo nella piattaforma avrete video tutorial su come imparare a costruire un sogno vivere la gratitudine comunicare e avrete a disposizione una piattaforma di business su cui in realtà non dovete fare grosse cose quella diciamo che lavora per voi fra virgolette e tuttavia io ritengo che sia davvero importante adottare questo atteggiamento ma ve lo dico perché perché io ho tante persone nella mia rete di business che non guadagnano perché? perché non attono queste cose che io sto dicendo non le mettono in pratica quindi non sarà mai un lavoro non sarà mai un'attività che cambia la tua vita tu solo tu puoi essere la tua vita e il cambiamento il prodotto più importante in questa società è l'essere umano sei tu il prodotto più importante e loro lo sanno che tu sei un prodotto ma non te lo dicono come posso realizzare il mio sogno? riguardati la diretta Alessandra ho espresso un po' di concetti interessanti tuttavia quando lanceremo la piattaforma ripeto avrete un qualcosa di concreto da utilizzare ovvio ragazzi cioè sia chiaro che io non solo qua solamente in veste di colui che condivide informazioni ma sono in veste di leader che sta creando concretamente una community di persone che insieme condividiamo un progetto ok? sia chiaro questo bene ragazzi se avete altre domande potete scrivermi in privato io vi ringrazio tanto per l'ascolto sono convinto che vi ho dato qualche spunto interessante la cosa più importante è avervi dato anche una dato l'opportunità di sperimentare una frequenza elevata stasera fatevi una bella lista di 10 leader la piattaforma sarà accessibile a tutti Luca Rubino ok non lo so su questo non lo so Luca per le persone nuove sì per chi è già non lo so ma di questo poi ne parliamo comunque di questo ne parliamo poi seriamente come mai non guadagnano i membri della tua rete se gli fornisci quelle informazioni beh perché l'ho detto prima Giovanni non tutti credono a questo mio approccio sempre più persone so che ci crederanno ma anche tante persone in questo momento non ci stanno credendo prima o poi dovranno crederci perché è l'unica via possibile io sono la via le verità la vita ciao papà ah vi stavo dicendo vi stavo dicendo come si fa pace con se stessi come si fa pace con se stessi ragazzi io voglio dirvi una cosa importantissima uscite dal come bisogna smetterla di fare i robot ai lavoratori bisogna volerle le cose ragazzi come faccio a fare pace con me stesso cazzo faccio pace con me stesso mi ritaglio un momento cammino mi siedo dico io sento la pace io voglio fare la pace ragazzi la vita è un atto di volontà bisogna volere le cose nel momento in cui lo vuoi lo realizzi isa mi raccomando quando inizio una diretta comincia sempre col dire come state io so che state bene io lo so che state bene ok grazie come si fa a fare pace con se stessi ok fate pace con voi stessi come faccio a realizzare un sogno realiti il sogno è l'atto di volontà che conta avete tutto per essere in pace in questo istante perché perché voi siete pace noi siamo pace fine bisogna solo sentirlo dentro di noi c'è una scatolina con un regalo dentro c'è già devo solo sentire che c'è non come faccio a trovare questa scatolina c'è già sentiamola allora consiglio fatevi una lista di dieci cose che vole dieci sogni che volete realizzare il sogno che volete realizzare è un qualcosa questo non ve l'ho detto ma è molto importante però non vi preoccupate perché farò molti video altri video su questo il sogno che vogliamo realizzare è un qualcosa che cambierà la nostra vita per sempre ad esempio io ho la punto no perché ho la punto no io ho la mercedes classe B ok diciamo che si sta un po' rovinando si sta un po' rompendo il mio sogno è comprarmi di nuovo la classe B non è un sogno quello il sogno è una cosa che mi cambia la vita per sempre cioè mi fa fare il salto di qualità quello è il sogno il fatto che tu tutti i giorni mangi la pasta non è un sogno il sogno è una cosa che tu non hai mai fatto o l'hai fatta solo una volta nella vita e vorresti portarlo nella tua vita in modo permanente questo è il sogno è un qualcosa che mi cambia la vita per sempre l'ho già avuto quello l'ho già avuto quello l'ho già avuto quello quindi il sogno non è cosa che abbiamo già avuto la scelta del sogno è quella cosa che abbiamo sperimentato almeno solo una volta nella vita e vogliamo che arrivi in modo permanente nella nostra vita una volta sono entrato in una casa di un ricco sono stata benissimo perfetto voglio portare quell'esperienza nella mia vita voglio quella cosa lì e ci penso tutti i giorni fatevi una lista di sogni con priorità cose che vi miglioreranno sicuramente la vita ragazzi parto anche da una cazzata voi cucinate vi stancate a cucinare ok volete un qualcosa che vi cucina per voi il bimbi non l'hai mai avuto in vita tua mettitelo come un sogno fantastico è un qualcosa che ti andrà a cambiare la vita voglio l'asciugatrice voglio quella macchina fotografica voglio quel tipo di computer lo capite sono quelle cose che io non ho mai avuto ma che so che se ce l'ho mi migliorano la vita per sempre quello è il sogno non eh i soldi sono questi quindi non è che mi posso per me il forno mi si è rotto me ne compro un altro ragazzi no questo non è adottare la vita da sogno questo è continuare a fare sempre le stesse cose il problema è che prima o poi ci annoiamo le emozioni non sono forti e quindi diciamo che ci faccio qua fatevi una lista di almeno dieci cose e focalizzatevi sulla prima ovvero quella più facile da realizzare ma anche roba da 50 100 200 euro 500 euro non è importante ma è un qualcosa che a voi di migliorare la vita fate una lista almeno io faccio così faccio la lista dieci cose dalla più piccola alla più grande ragazzi cose materiali cose materiali poi se mi volete fare domande su questo mi scrivete in privato vi do indicazioni comunque poi sulla piattaforma ci saranno delle indicazioni precise su questo va bene ragazzi grazie dal profondo del mio cuore siamo nati per essere ricchi siamo nati per amare siamo nati per essere amati siamo nati per vivere in abbondanza bisogna solo avere il coraggio di viverlo e accettarlo e si comincia oggi con un solo passo un solo passo può cambiarci la giornata ci vediamo alla prossima diretta esatto Pasquale cose materiali intendo cose finali anche una relazione è una cosa materiale ok non sognate la promozione al lavoro non fate questo sogno non serve a niente sognate allora perché il ragionamento è sogno la promozione così con la promozione guadagni più quindi se guadagni più posso comprare una cosa nuova non serve tutto questo giro spostati sogno la cosa nuova basta può arrivare o attraverso una promozione o attraverso un'altra attività quindi sogniamo le cose finali ciao ragazzi vi voglio bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti